eccoci qua ciao a tutti però motivi che saranno ovvi a chi mi segue o avrei voluto interporre altri video tra questo e quello precedente ma gli altri mi stanno richiedendo come sempre più studio più tempo più riflessione e quindi questo era bene o male pronto e ho detto registriamo facciamo uscire se no continuano ad accusarmi del fatto che faccio video ogni morte di papa quindi ecco per voi la cucina italiana non esiste come ci illudiamo sulla lingua e che cos'è l'invenzione della tradizione tema interessante per quanto mi riguarda allora dopo quindi la democrazia non esiste punto interrogativo ecco un altro video sul libro che sostiene la non esistenza di qualcosa che tutti noi diamo per scontato la cucina italiana non esiste certo non esiste nemmeno la cucina francese non esiste quella cinese ogni volta che pensiamo è un complesso di pratiche quotidiane esista cadiamo in una trappola intellettuale che è legata alla nostra illusione che il linguaggio influenzi in qualche modo la realtà è un pensiero magico di cui sono vittime le figure più illustri della nostra filosofia nazionale tra l'altro figurarsi che qualche massaia o qualche gastrocoso di youtube o di instagram riscaldato dall'illusione che la carbonara sia qualcosa in sé non solo uno dei modi dei molti modi per abbinare le stesse materie primi la cucina italiana non esiste senza punto fermo di domanda esclamativo sottotitolo bugie e falso e miti sui prodotti e i piatti cosiddetti tipici da mondatori c'è sicuramente l'ebook io l'ho letto in ebook non mi ricordo se c'è anche l'audiolibro comunque è una lettura piuttosto rapida e interessante è un bel libro è un bel libro pieno di aneddoti anzi mi sbaglio è pieno di anti aneddoti si prendono in questo lavoro molte cose in cui c'è chi ripone fede assoluta non ultima appunto la barzelletta sulla sacralità della carbonara e del suo guanciale come dicevo prima e si mostrano queste barzellette nude del sinora chiamarle parte si mostra questa va queste cose nude denudate dell'emitizzazione delle tradizioni che ognuno vuole vedere ovunque per dare una statura al suo fare al fare dei suoi antenati della nonna degli ascendenti vari e al di là della qualità quello stesso fare è un libro che trovo irrinunciabile per un italiano concordo diciamolo subito su quasi tutto quello che è detto nel libro ed è per questo che mi metto qui e cerco di criticarlo il più ferocemente possibile se mi riesce non posso nascondere che ho provato leggendo il bel libro di grandi e soffiati la sensazione che che forse induga fin troppo nella aneddotica ma o meglio nella contro aneddotica gli autori sembrano godere della loro opera di di svelamento di sfatamento a così che si dice debunking in italiano sfatamento con un'attinenza meravigliosa tra l'altro al termine americano the bank slang per rimuovere il bank il non senza da un'affermazione mentre noi dalla nostra parte del mare rimuoviamo le fate se non proprio il fatto con un apposito veleno intellettuale per quegli esserini alati che solo guardati superficialmente sono sensuali attraenti osservati da vicino sono invece mostruosità generate dalle menti irrazionali sfatare sfatare non debancare ragazzi vabbè questo non c'entra ma che cos'è una tradizione la tradizione è il modo in cui una generazione passa un sapere alla successiva semplicemente questo da quando esiste l'uomo quando esistono forse addirittura gli omini la tradizione deriva originariamente da conoscenze acquisite con l'esperienza sul campo ma il termine deriva invece originariamente dall'uso di passarsi libri sacri e per via parallele ha pure il significato di tradire tra l'altro tradizione tradimento passaggio di libri sacri ma passaggio di conoscenze utile per la tribù tradizione quindi è una cosa utile volendo e quindi il passaggio di un sapere codificato quale ne sia l'arco temporale e in questo tra molte virgolette false tradizioni sono semplicemente più brevi di quanto millantino i loro custodi più o meno inconsapevolmente sono i perpetratori di una truffa culturale queste persone o millantato credito antropologico ma le tradizioni sono o vere o false sono degli aspetti della trasmissione delle conoscenze gli autori grandi e soffiati se davvero voglio fargli le pulci commettono già una leggerezza nel sottotitolo e bugie e falsi miti infatti i miti sono narrazioni sono falsi per definizione di per sé e chi pretende che possono essere mai veri è una forma di vita affine al prete cacca gombaro al guonzo che al prete va dietro nella tradizione c'è anche l'idea di tradimento dicevo tradire la tradizione è una forma rispettosa di innovazione senza sovvertimento così come tradire il mito porta a racconti che arricchiscono la cultura umana ma poi cultura è esattamente come tradizione si tratta di nomi dati per praticità descrittiva cose mutevoli assai più enormi e vive di quanto possa trasparire da una definizione vocabolaristica le menti inermi di fronte alla complessità del reale si appigliano a queste astrazioni prive di comprensione e senso critico l'accorato atteggiamento che si evidenzia nel voler sottolineare con tanta fuga le bugie sempre tra virgolette denota forse un passivo soggiacere a quel magico idealismo della parola di cui parlavo anche prima per quanto sia fatto in chiave critico testo in questione a un prolungamento questo senza grandi sorprese di del sottotitolo ma trovo importante che ci sia una raccolta contro aneddotica di quella che i social vedono come scienza della cucina acquisita ho sempre trovato prezioso l'appropriarmi delle più disparate tradizioni in qualsiasi ambito che fosse la cucina la filosofia e poi piegare queste tradizioni al mio gusto e alla mia propria retorica e agli scopi della mia narrativa perché la tradizione è codifica e narrazione per questo la codifica del ragù bolognese sembra tanto patetica perché si vuole ridurre la ricchezza di una costellazione di saperi e gusti e codifiche a una linea tradizionale inesistente difatti basta un giro per bologna e ogni cuoco e ogni matrona lo rifà a suo gusto con o senza latte col concentrato solo o con la salsiccia al posto del capocollo che ne so questo slancio burocratizzante dove il passacarte si fa prete di una religione sconclusionata non è niente in confronto a quel che accade altrove in realtà in cina si danno casi di ricette di riso fritto codificate per legge negli sterminati io e 6 vogliono far credere che esistano delle tipicità locali in una pratica culinaria che si riduce più o meno a friggere o grigliare qualsiasi cosa gli stessi autori grandi soffiati parlano di come l'ucraina reagendo al mostro russo alle sue porte si stia rifugiando nella scusate nella canonizzazione di una cucina che sembra pari pari come quella italica dalle parole del loro bel manifesto in difesa della razza culinaria persino l'area euro orientale infatti vuole farci credere che il bors ucraino ucraino o bors russo o bors polacco o bors yiddish possa essere qualcosa di più di un disperato tentativo di trarre sapori da un triste minestrone a base di barbabietola e lo è pure ma non è l'orrida poltiglia di cui narra Tolstoi la zuppa di ortiche la parizia dei moderni è quella che porta una poltiglia ad essere un insieme armonioso di elementi grazie all'aggiungersi di ingredienti che prima non c'erano e un'attenzione scientifica alle cotture alle consistenze ai procedimenti questo fa di un orrido minestrone un gustoso cibo di conforto il libro come dicevo è un continuo sfatare leggende e miti dalla dieta mediterranea alle origini pseudonobiliari della regina delle pizze ma il filo conduttore vero è la sottolineatura di come l'oggi obeso sia figlio di unieri miserabile di cui più snob si vergognano e dei quali politici troppo disonesti troppo stupidi si fanno fantini degni del mondo di Alice cercando vanamente di portare un brocco oltre l'ostacolo e però mi sorbono anche dei dubbi a mia volta colpevolmente aneddotici perché ho personalmente assistito nei lontani anni 80 al tentativo riuscito tra l'altro di seppellire quel che eravamo sotto cumuli di falsità tra l'ideologico e l'idealistico inducendo i residui della precedente preponderante popolazione agraria ad abbandonare il potere per l'appartamento l'isolamento per l'alveare la competenza e la profonda conoscenza per lo sfasamento e l'integrazione di una macchina produttiva che aveva bisogno solo di braccio e non di menti per quanto grezze molto attive quando ci siamo accorti che stavamo inumando ciò che eravamo insieme alla nostra miseria allora per correre i ripari si sono iniziate a forgiare le tradizioni e le bugie di cui fuggito esempio furono fin dall'origine del movimento i pesi di slow food questo non riguarda certamente solo il cibo per dirne una una che mi ha toccato da vicino perché sono dovuto ripartire da zero dove mi aspettavo di trovare competenze già consolidato è stato nella fine arte del potare la vita abbiamo dovuto attendere che un pochino friulan fighetto e si scherza marco e me ne volere ti adoro ci riportasse a non trucidare le viti con tanti tagli insensati riscoprendo quel che un tempo sapevano tutti quelli con un po di cervello nel mondo contadino tradizione interrotta il bisogno di costruire invece che semplicemente migliorare siamo orfani di tradizioni che non erano abbastanza in linea con l'ideologia e con la moda sono state tarpate e che quindi adesso inevitabilmente ci dobbiamo anche opporre inventare chiaramente è un fenomeno molto più vasto e non è l'unica ragione questo però perché il figlio del porcaro si fece ragioniere dunque un uomo contemporaneo infelice nostalgico a ben guardare spiantato a quell'epoca una delle molte attività di famiglia era per esempio l'allevamento del maiale non il poetico allevare cinte senesi in un bosco ma capannoni i maiali tenuti all'ingrasso edifici col tetto di ethernet pieni di animali che si volevano più grassi possibile non certo come gli allevamenti intensivi contemporanei sia chiaro ma nemmeno un delicato vivere felice del porco destinato alle salsicce in quegli anni mangiare il maiale sembrava una cosa fuori moda era grasso era laido e tutti volevano mangiare macinato di mucca sotto forma di hamburger di catena poi iniziarono a sorgere i presidi come dicevo scappò fuori un maiale estinto la cinta e delle mie parti e conosco almeno cinque allevatori della montagnola senese i cui babbi erano gli unici ad avere conservato il genoma in ciccia voglio dire che talvolta l'invenzione della tradizione può essere un modo di sanare delle ferite dovute alla perdita di identità che il progresso insieme al benessere ha talvolta ha portato nella vita delle persone impreparate tutte le persone perché tutti eravamo impreparati a quelle al progresso che è stato non siamo forse tutti noi impreparati al domani lo siamo siamo assolutamente da temi retta ma passiamo oltre il libro di cui visto qui la parlando a una ammirabile bibliografia sono tante pagine di bibliografia e che trovo sempre molto lodevole nel questo genere di lavori una bibliografia dal quale manca giusto la bibbia quella grossa dico ma non ne sono rimasti esclusi il capitale e la fisiologia del gusto quali bibbie alternative tanto altro un libro tra i molti citati che mi ha sempre colpito per la sua profondità di sguardo è citato così dove l'ho messo eccolo l'invenzione della tradizione nel 1983 eric ausbaum con terrence ranger curò questo libro fondamentale è una raccolta l'invenzione della tradizione una raccolta di saggi in cui sono contenuti esempi di tradizioni inventate un sacco di esempio una delle più curiose per esempio è quella del kit scozzese che si affermò definitivamente solo nella seconda metà dell'ottocento con buona pace di mc gibson e di brevart come ci insegna il grande storico inglese tradizioni che ci appaiono o si pretendono antiche hanno spesso un origine piuttosto recente e talvolta sono inventate di sana pianta osbaum addirittura chiude il libro con un saggio dal titolo tradizioni e genesi delle identità di massa in europa nel quale spiega come ogni società abbia accumulato una riserva di materiale in apparenza antico per insaldare i vincoli nazionali per connotare più marcatamente la fisionomia partiti di ceti o per attenuare quel senso di insicurezza che si poteva avvertire guardando un futuro pieno di radicali innovazioni in questo saggio di chiusura si compie un'analisi davvero interessante che tra l'altro sottolinea due modalità di invenzione della tradizione quella sociale e quella politica questa seconda modalità ovviamente è una delle forme della propaganda ma che sia spontanea o pilotata l'invenzione della tradizione è un modo per opporsi al cambiamento che in passato ha portato soprattutto benefici ma faceva paura forse ancora più di oggi quando c'è del dubbio sul fatto che i cambiamenti imminenti andranno a favore di una estensione della libertà e dei diritti al lungo termine ma torniamo all'agro alimentare la mitizzazione della nostra cultura culinaria è prima di tutto il tentativo malaccorto di competere con i francesi sul piano del marketing loro con una varietà agricola e gastro artigianale che non può nemmeno lontanamente paragonarsi per banali ragioni climatiche e geografiche a quella di cui può vantarsi il nostro paese sono però campioni nel narrare i loro prodotti e nel combattere perché siano essi a dettare lo standard in questo l'essere arrivati tardi non aiuta per niente come teorizzano in modo azzeccato sotto altri aspetti i nostri autori richiamandosi alla teoria dell'industrializzazione tardiva di cui non ricordo l'autore vi lascio comunque il libro come tutti gli altri che cito nella descrizione del video sotto questo aspetto siamo in eterna rincorsa perché in francia l'invenzione della tradizione è iniziata molto prima e come è cominciato prima lo stato unitario francese e in modo francesemente più centralizzato e coordinato a questo proposito mi piace che ci tino la critica di marx alle denominazioni dello champagne non ci si aspetta ma in marzo c'è veramente di tutto di questa denominazione sono i re di oggi tutte le denominazioni che ci hanno invaso più o meno truffaldinamente anche in italia ancora oggi c'è chi tira di qua chi tira di là perché vogliono fare una doc vogliono fare vogliono mettere una g in coda e strepita non so se non gliela danno io faccio vini da vent'anni e indulgo solo nel definirli toscani perché ritengo che chianti di ocg sia un sinonimo di truffa peggio ancora se mi propongono prosecco doc senza g so che mi stanno prendendo in giro ma non sono in grado né forse mi interessa di proteggere da una simile sciampiaggine il consumatore mondiale citando dal libro di cui stiamo parlando ovviamente al monopolio basato sulla qualità è più facile e più sicuro sostituire il monopolio basato sulla terra questo dice marzo si stabilisce per decreto che per semplice fatto di crescere in un dato luogo le vigne produrranno in eterno un vino di qualità superiore un vino di qualità superiore con buona pace per tutti i discorsi che ancora oggi ci sentiamo ripetere sulla qualità dei terreni sul microclima sul low how e così via ora sappiamo che quando analizzava il comportamento degli imprenditori marx era uno che tendeva a pensare male e quindi l'idea che un monopolio potesse essere creato artificialmente attraverso la demarcazione giuridica dei vigneti era del tutto ovvia questo ci dicono grandi e soffiati per quanto mi riguarda in uno dei miei mestieri che è appunto fare il vino l'idea che la denominazione conti davvero qualcosa è pure e pura sciampiaggine pura sciampiaggine conta che la vigna sia ben posizionata ben coltivata e che l'uva sia sanissima e che il viticoltore sia saggio e moderato nei gesti perché colto e curioso di ogni innovazione perché è sempre molto critico ma voglio chiudere questa disamina con due ultime considerazioni uno questo libro ripeto lo dovrebbero leggere proprio tutti è lucido analitico e benché non citando numeri e tabelle vadano presi per buoni tanti dati di fatto anche alcuni un po sospetti va letto considerando una cosa il cibo il prodotto agricolo ha valore solo in una società ricca e dove il benessere è qualcosa di scontato altrimenti valgono solo le calorie la classe politica che vuole ridurci a un paese di camerieri ortolani creando una mitologia sul made in italy viene da radici autoritarie ricordiamoci e ogni regime autoritario è più forte se l'economia si destruttura e precipita verso i suoi alimenti basi lo vediamo con la russia il cui unico bene sono le materie prime e quindi si ha un'economia che lietamente per i gerarchi non può nutrire una classe media culta e rilevante noi in italia non abbiamo materie prime e quindi ovvio che la psicologia autoritaria di stampo fascista ci voglia respingere verso un'economia agricola e da catena di montaggio degna del ventennio non hanno la cultura per comprendere che solo l'innovazione e una costante modernizzazione sono il vero e unico sostrato vitale per una cultura del cibo del vino e del rispetto della terra il resto è solo un ritorno a un tempo di sfruttamento e di repressione dei diritti non si può pensare che questi elementi fondamentali fioriscano in un'economia che si destruttura che si deindustrializza due se mi citi di umana se mi citi uno degli autori preferiti uno dei miei dei miei romanzi prediletti così faceva onore alla tavola come un uomo condannato da 45 mesi alla cucina italiana cioè una delle peggiori cucine del mondo allora il mio italico istinto è risponderti che quel buzzone era pur sempre un dannato francese colmo di sciovinismo e via me le tirate fuori certe levate rischi poi penso che quel commento viene non dal conte di monte cristo non da di umasti insomma da quel fighetto di franza ma siccome il luogo comune chiama e dunque non c'è due senza tre al consumatore dovrebbe interessare poco la provenienza di un cibo quello che interessa sono la qualità e la sicurezza in un paese voluto delle politiche alimentari si occupano le autorità sanitarie in italia se ne occupa invece il ministero dell'agricoltura rendendo in questo modo evidente l'intento protezionistico di tutta la retorica sulla qualità dei prodotti italiani questa affermazione dei nostri per quanto si possa essere positivi è falsa bene vi ho parlato dell'invenzione della tradizione vi ho parlato di un sacco di altre cose mi sembra che il video si sarà fatto immagino già piuttosto lungo quindi la cucina italiana non esiste bugie falsi miti sui prodotti piatti cosiddetti tipici un libro carino da leggere poi vi ho consigliato l'invenzione della tradizione testo fondamentale o meglio raccolta di testi fondamentali leggetelo mi piace segnalarvi anche 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 un altro libro che ancora devo lo scorso non l'ho ancora letto ma mi è sembrato un libro veramente interessante sempre di alberto grandi storia delle nostre paure alimentari come l'alimentazione ha modellato l'identità culturale è sicuramente un libro di storia dell'alimentazione fondamentale siamo italiani parliamo sempre di quindi mi sembra giusto che sgrossiamo la nostra ignoranza su uno degli aspetti più fondamentali del nostro vivere nazionale che altro vi lascio tutti i libri in descrizione e spero di avervi invitato alla lettura come cerco sempre di fare anche se con argomenti un pochino diversi da quelli che tratto di solito che però mi stimolano molto riguardano molto la mia vita quotidiana e anche la vostra quindi vi lascio con un pensiero santificate meno la carbonara e rispettate di più il lavoro creativo di chi si occupa di queste cose anche e soprattutto non pensando che l'italia possa diventare il ristorante e l'albergo del mondo un paese non industrializzato è destinato a nutrirsi di rapo e bollino un saluto